Oggi è stata una tappa direi straordinaria, forse la più bella finora a livello paesaggistico sicuramente. Abbiamo attraversato tutte le colline toscane, tra i vigneti e tra le strade sterrate, è stata veramente un'emozione. Per fortuna non si è fatto male a nessuno, ovviamente abbiamo affrontato tutto il percorso con prudenza perché questa non è una gara a pedrare con noi, non ci sono professionisti ma persone normali che hanno altri lavori e che oggi si cimentano, si provano a vivere questa esperienza. Abbiamo cercato di adattarci all'andatura di tutti, soprattutto in discesa, è andato tutto alla perfezione, quindi credo sia un grande successo anche oggi come lo è stato sempre fino ad ora. Grazie a tutti! Grazie a tutti!